Non utilizzare i mezzi inappropriati, ma fidati sempre a mani esperte. Entra nel centro estetico KD di Cassandra Dettori e scoprirai com'è bello, prendi sicura del proprio corpo. Potrai valutare tu stesso e scegliere tra i vari trattamenti Manicure Gel semipermanente Pedicure Massaggi di diverso tipo Ceretta Luce pulsata Pulizia viso Tapping Trucco Vieni a trovarci, troveremo la soluzione giusta per te. Ricorda, la cura del proprio corpo è il rispetto di te stesso. Luce pulsata Luce pulsata Luce pulsata